Allora, questo è un paese in cui un dittatore, posso dire una cosa? Adesso ho uno sfogo il mio. Se un dittatore non si mette il cappellone, non spara per aria, non vedete il passo dell'oca fuori dalla finestra, non vi reazione al pane e non lo prendete sul senso. È sempre un buffone, c'è sempre da ridere.